Mal tempo, il preannunciato ritorno del mal tempo è arrivato puntualmente con temperature in picchiata, quindi freddo intenso, insomma l'inverno è servito. Il primo weekend di pieno inverno si è aperto già all'alba in Abruzzo con gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti e anche per i cassonetti sbalzati in strada dalla tramontana. A Pescara si è passato in pochi minuti dalla pioggia al nevischio e poi anche alla grandine. L'amministrazione comunale della città ha deciso di chiudere parchi e giardini pubblici come anche la riserva regionale della pineta d'Annunziana per prudenza, visto il forte vento che sta accompagnando le precipitazioni e appunto abbiamo visto anche nella foto sul sito un albero, un grande albero che è caduto in via Regine Margherita a Pescara. Analoga disposizione a Montesilvano, cioè quella relativa alla chiusura dei parchi. Per la riserva naturale Santa Filomena e la pinetina di Vallelunga di Pescara la chiusura si protrarrà fino al 30 novembre per consentire di continuare le verifiche sulle conseguenze appunto del maltempo e deve intervenire sulle piante che sono cadute al suolo. La neve non sta imbiancando solo le cime di Maiella e Gran Sasso ma è scesa anche a quote collinari, qui vediamo proprio le immagini relative a Pescara e all'albero di via Regina Margherita. A Ortona la notte scorsa è anche caduto un albero in via Deritis, per fortuna non vi erano persone a bordo dei mezzi in transito. Sono chiuse le scuole a Ortona e sono anche diverse segnalazioni nei comuni abruzzesi per i rami in strada e appunto per i cassonetti sbalzati. Poi c'è il Teramano dove questa mattina tra Pineto e Silvi nei pressi della torre di Cerrano è caduto un grosso albero sulla carreggiata mentre transitava un'auto con una persona a bordo, solo ferite lievi per fortuna per il conducente. La statale 16 è stata provvisoriamente chiusa per rimuovere l'albero.